Luiz Vervacca è un grande protagonista del Giro della Val d'Aosta. Quale è la tua raccoglia? Ho iniziato con un buon progetto per il mio potere. Non avevo tanto potere per un po' lungo tempo, ma ero soddisfatto con il mio posto. La prima stagione era una buona stagione, avevo un buon sentimento. In Pantaleon ho fatto una prima attacca, e poi continui andando. Ho finito il secondo. E' stato un buon stagione per me, per la classificazione general. La seconda stagione era la mia migliore stagione. Per la prima stagione, ho avuto un grande problema. Ho perduto il gruppo dei favoriti. In la descente, al Col de Jou, ho arrivato, e poi è stato un po' migliore. L'ultima stagione, ho avuto un buon sentimento. Ma ho perduto il tempo, e questo è stato buono per la classificazione. ...